Il tuo Steph Cacciatore Super Megaro è tornato? Vuoi salutarmi? Pensa a prede Mi dai un bacino? No, sei inutile Dammi un bacino, dai Ho portato un sacco di roba a casa Vattene Non ti faccio uscire Ma cosa? Solo il grano e portate nessuna prede? Grano, legna, bacche, semini Ma dovevi portarci le proteine che qui moriamo di fame E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E questo giochiamo a Echo Ed è solo grazie ai consolini che stiamo continuando questa serie Siamo super felici Qualsiasi gioco che portiamo Conosciuto, sconosciuto, non importa I consolini lo guardano Siete davvero meravigliosi come questo gioco Che stiamo felicissimi, scusa, di continuare E troppo felice Ferinichi Sì, non riesco neanche a parlare da quanto sono felice Volevo dire che questo gioco l'abbiamo comprato con questa filosofia Ok, il gioco è fantastico Se i consolini piace, bene, facciamo la serie Se non gli piace, ce lo giochiamo per i fatti nostri Ci state dando la possibilità di continuare a giocare questo gioco Facendo dei video Siamo davvero felicissimi e grati di questa possibilità E quindi oggi super mega episodio Carichissimi e super felici Iniziamo a girare in tutto Cosa facciamo oggi? Facciamo quello che abbiamo fallito nello scorso episodio Alla fine del video Ovvero provare a fare una piccola coltivazione Quindi pensavamo poi di farci una piccola coltivazione qui attorno, no? Esattamente Stai già iniziando Potevamo farla nella montagnetta Però averla a fianco a casa è più bellina Quindi togliamo la sabbia Mettiamo della terra E facciamo una piantagione vicino a casa Per farlo Dobbiamo prendere la terra Secondo me conviene che tu prendi la terra da qui La vedi questa? Mi distraggono gli uccellini Prendi questa terra da questa montagnetta La metti lì E io al posto di quella metto la sabbia Perfetto Ok? Perfetto Io ti sposto la sabbia e tu metti la terra Io sposto la sabbia e tu metti la terra Siamo una squadra formidabile Esatto Poi decidiamo la grandezza Però per ora tanto possiamo continuare ad andare tranquilli Allora io direi non troppo grande e non troppo piccolo Esatto Perché comunque possiamo piantare diverse cose Quindi direi di abbondare un pochettino Ma ovviamente senza esagerare Siamo d'accordo per una volta Sembra quasi un miracolo Sai che cosa ho trovato tra un video e l'altro Facendo una passeggiatina? Dimmi Il mais Possiamo fare i popcorn Ma te ne immagini se li potresti fare? Sarebbe fantastico Però a parte gli scherzi Abbiamo finalmente i carboidrati Perché stavamo sempre mangiando la frutta Che ci dava tante vitamine E pochi carboidrati Con il mais possiamo risistemarci un po' la dieta A questo punto ci mancano solo le proteine Però ancora non abbiamo trovato il coraggio Diciamo di fare ciò che va fatto Dai secondo me può andar bene Magari un minimo più lungo si poteva fare Ma è un inizio Dai un inizio Poi nel caso si modificano Ti lascio l'onore Vai negli skill points Oh che bello Ho già controllato dov'è Vai su ricerca Ok Tutto a sinistra Tutto a sinistra Vedi? Ricerca per l'agricoltura Metti un punto E teoricamente ti dovrebbe dare il rastrello Ok Dammi conferma No Anzi no Mi ha dato la falce Perché questa io non ce l'avevo Sto gioco è tutto un trip Allora noi abbiamo imparato La prima cosa di agricoltura Dico bene che farlo vedere Perché se no a voce non penso si capisca Sì esatto Abbiamo imparato Stiamo impazzendo Livello 1 di agricoltura Che è questo qui Esatto Imparando questo qui Dobbiamo fare il research table Che sta qui con il livello 2 Vedete il livello 2 Di basic crafting Ci da il research table Ok E tramite quel research table Che sarà stile Una workbench Credo che noi crafteremo Questo libro di agricoltura Che tu hai imparato Per imparare a seminare Wow Ok Wow Per fare questo research table Noi dobbiamo andare Nel nostro bellissimo workbench Ed è qui Research table Ci chiede 5 di pietra E 20 di legna Allora Qui fammi ricordare Quanto ne abbiamo Perché sono sicura Che ne abbiamo messo 5 Abbiamo 5 di legna Quindi ce ne servono Altri 15 Speriamo che mi dicessi Che ne avessimo 25 là E pure io Invece no Davvero poco Allora è complicato È complicato Quindi ci serve sicuramente Migliorare questo tavolo E poi speriamo Di poter iniziare a coltivare Non è come Minecraft Che prendi e coltivi No assolutamente Devi proprio capito Imparare Perché qui Dobbiamo vederla in questa ottica Stiamo imparando a coltivare Certo certo Non è che T'ha capito Nella preistoria Coltivi qualche cosa velenosa E muori Capito Poi pensa proprio Secondo me Nella preistoria Che così arrivava Capito Uno Ehi so coltivare No Hanno fatto dei tentativi No facciano dei tentativi Prefieri di fare tentativi Che studiare nei libri Te lo dico Buttiamo giù Tipo questo Che è mezzo a un sacco di alberi Ok Ce lo portiamo a casa Ci tocca fare più strada Del solito Però dai pazienza Almeno teniamo un buon ecosistema Cade Si è incastrato Si è incastrato Perfetto Non ci posso credere Perfetto Me lo fai tagliare in pezzi? No? Dai no Non ti può essere incastrato però Allora Aspetta Vediamo così No? Perfetto Opla Opla Perché non riesco più a tagliarlo? C'è il cespuglio in mezzo qua Allora Depositiamo la nostra bellissima legna Ok A questo punto Non so se ti sei dimenticata Ma ci serve anche Della pietra Eh lo so Come la facciamo la pietra? La pietra La facciamo con un altro skill points Per la felicità di tutti Io ne ho zero Io ne ho zero Io ne ho due per fortuna Ok Quindi su survival Le devo mettere un punto Su mining Ci dà un bellissimo piccone E adesso vado a Piendere A prendere Un po' di pietra Allora Cerchiamo di prenderle in un punto Che non ci rovina La nostra bellissima zona esteticamente Tipo questo Ok Aspetta Ti voglio vedere Voglio vedere come lo fai Allora Ho rotto questo Questo pezzo Non so se mi vedi Non posso più fare nulla Però non me lo fa neanche prendere Secondo te cosa vuol dire? Allora Vediamo se adesso Tipo con la pala Ah no Aspetta Però lo sto prendendo Sì Vedi Avevo ragione Infatti ho detto Che cosa ho preso Questo io l'ho preso Ma l'hai preso con la pala? Sì E sono esattamente come quello che hai tu Ok È giusto così? Credo di sì Scomodissimo nel caso Ma non capisco Allora Dimmi che è una roccia Storage Stone Sì Io ne ho depositato una Ok Finito Sì 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 Finito un corno Ne abbiamo fai cinque così È scomodissimo Cioè no Finito per ora Ovvio intendevo Ok Allora È stranissimo Mi è un attimino confuso Perché io l'ho preso con la pala Ed ero convinta di aver preso terra Sinceramente non stavo capendo Cosa stesse succedendo E invece ora ci sono Ok Perfetto Quindi Allora aspetta un attimino Ti rompo un'altra roccia Così ne puoi prendere anche tu Almeno mi dai una mano Ok Siamo a tre Quindi adesso ne prendiamo di nuovo una testa E ce l'abbiamo fatta Una fatica incredibile Portare avanti questa cosa Davvero La voglia La voglia Difficile diventare dei cittadini modello Per questo mondo Eh no giusto Non dobbiamo sprecare nulla Rovinare nulla Quindi Una E due Vado prendo io Ok Ok io prendo l'altra Ok perfetto dai Abbiamo fatto Adesso creiamo il research table E spero che le difficoltà siano finite Cioè spero che adesso ci fanno Spero Coltivare quello che vogliamo E poi ho notato che è anche un tempo di creazione Non so se ci hai fatto caso Ci mette tipo due minuti No che figo Cioè spero di aver letto bene Però dovrebbe metterci questi due minuti Ci sono? Eh sì Quindi Aspetta che vado Devi craftarlo tu perché io non posso Perché non l'ho imparato Esatto perché poi mi serve con il punto Allora research table giusto? Sì e fai order Order E infatti due minuti a craftare No vabbè Due minuti a craftare Sì avevo ragione che ha dei tempi Ok Anche questo è super realistico Ma cosa dici? Che sarà questo che si trasforma nel research? Oppure rimane così Secondo me c'è un altro tavolo Eh ok Secondo me è un altro tavolo Sì buon appetito Grazie Io le calorie piene Il mais si riempie tanto E soprattutto ci dà carboidrati Che fanno felice il personaggio Però Ho notato che si sta arrabbiando sempre di più Per la mancanza di proteine Eh ho notato Infatti sai che ti dico? Che io almeno inizio a mettere Un primo punto in caccia Ok io sono ancora a zero punti Ho la barra a metà Quindi al momento non posso imparare cose nuove Ci devi pensare a te Allora Facendo così Mi sblocco La torcia Ok Che complicato Le frecce E l'arco Però le devo anche craftare L'arco me lo dà Ed è bellissimo Garami Aspetta Oh bello Però anche le frecce devi fare Però le devo craftare Le frecce E qui È gigante T'avverto Ok sono pronto psicologicamente Allora lo metto Lo metto Oh mamma mia è davvero gigante Preparati Vai Vado Vai Girati dietro di te Te l'ha detto che era gigante Ma è d'architetto proprio questo Sì è proprio capito Una scrivania d'architetto È fighissima Ma che meraviglia È fighissima Ok quindi se noi andiamo qua con la E Tu hai Vedi Agricoltura Oh finalmente Cosa succede? Perché ti sei bloccato? Dov'è l'agricoltura? Dimmi che succede ti prego Prima di trovarlo Ti ricordi quando ho detto E di piangere E speriamo che questo sia l'ultima cosa L'ultimo passaggio Ci chiede 20 di terra 10 semini di grano 10 camas bulb Che non so neanche che cosa siano E 10 bacche Allora Mi ammazzo io Ti ammazzi tu Scegli Cosa facciamo? Sono perplessa Fammi vedere un attimo Allora Quello che si è capito È che non avevamo capito Nel primo episodio È che ogni cosa qui Te la devi studare Sono dei fiori viola Che io ho visto Sopra la montagna Ah li ho visti Ma quelli li prendi con la falce Sicuro Dici? Guarda ce ne sono anche qua Ce ne sono anche qua Perché non li puoi prendere a mano Scusami Tu ce la fai a prenderli a mano? No Vediamo provo con la falce Lasciameli Lasciameli Vai Allora No non me li seleziona No Mi seleziona solo l'erba normale Guarda ci provo ma non fa Ok Con una pala Con la pala Ok Presi Due Ok Cinque Bello bello Dai cinque non male Cinque non male Ok abbiamo fatto gioco ai fiori Ne ho preso sei io Tu cinque Depositiamoli E questo è fatto Che poi io sto notando Che la terra Non è che ne puoi prendere più di una Devo fare venti Hai confermato? Cioè non te ne fa proprio prendere due? No ho provato a prenderne altre Non si muove la pala Quindi per forza Bellissima notizia Vabbè Mia cara Regina Ferenichi Sto per piangere te lo dico Solo belle notizie oggi Sto per mettermi a piangere Guarda Solo belle notizie Allora Io vado a caccia Tu devi andare a cercare il grano Te ne rendi conto? Il grano e la terra Perché pure la terra Cioè venti comunque vanno portati avanti e indietro Cioè sono tanti Non sono pochi Allora per ora fai la terra Poi al grano vediamo un attimino Io provo a cacciare un animale E vediamo se ce la faccio Vediamo come va Secondo me sarà la nostra fine questa Te lo dico Che disgrazia Stavo cercando di cacciare Sappiate che ho mancato quattro frecce su quattro Sulla mia preda Wow Quindi giusto per farvi sapere Cacciatore provetto Quanto Steph è un cacciatore provetto Però Mancando la preda Ho trovato il grano E questo qui Bisogna usare la falce così E si prende Sì infatti vedi che avevo ragione La falce comunque mi ricordavo per il grano Sì Non per i fiori ma per il grano Perfetto Perfetto Quindi Quest'altro problema gigantesco L'abbiamo risolto Adesso rimane il problema della caccia Che ti garantisco che è difficilissimo Praticamente con l'arco Non hai nessun tipo di mirino Quindi vai a sentimento Quindi devi andare a sentimento E è complicatissimo Ma non potevamo craftare magari Una lancia Qualcosa di un po' più da vicino Un po' più rurale E beh perché l'arco comunque Devi essere abile Probabilmente anche la cosa del mirino Non lo sai Se è una cosa che poi avrai più avanti Sbloccando altre abilità di caccia Esatto Magari migliorando Eh esatto Ci ho pensato anche io Il tuo staff cacciatore super mega roe è tornato Vuoi salutarmi? Senza prede Mi dai un bacino? No sei inutile Dammi un bacino Dai Ho portato un sacco di roba a casa Vattene Non ti faccio uscire Ma cosa? Solo il grano E portate nessuna prede Grano, legna, bacche, semini Ma dovevi poterci le proteine Che qui moriamo di fame Ascolta vai tu a cacciare Sei talmente brutta Che appena ti vedono muoiono Togliti Togliti Guarda che brutta faccia Tu sei brutto Togliti Dai Grazie Allora Fammi depositare la nostra bella legna Io non voglio essere pessimista Ma secondo me Non è neanche l'ultimo passaggio Eh ho paura di quello Cioè mi sembra troppo bello Per essere vero dopo essere tutto sto tempo qua Allora vai Allora ti metto i semini Tu hai già messo tutti gli altri Sì ho messo tutto Vai Crafta Vado Quanto ci mette? Cinque minuti No Cinque minuti No Cosa vorresti cacciare? Dì al tuo staff cacciatore Nulla Dai ci tocca su Vediamo cosa troviamo dai Ok Comunque dai A parte i cervi Che secondo me sono troppo tosti Ecco C'è una preda Non devi fare rumore mia cara Dov'è la preda? È un po' scappata Perché tu sei arrivata col passo d'elefante Ma stai zitta Allora lo vedi? Davanti a noi Abbiamo una volpa a sinistra Però è troppo carina Ammazziamo il pavone Fuoco Mancato di parecchio Quindi un po' più basso Fuoco Colpito 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 ucciso Oh Andata Aspetta che arrivo correndo Oh Finalmente hai capito Che bello Non moriremo di fame Allora Con due colpi L'ho ammazzato E Allora Secondo te con l'ascia? No No che cosa Terribile Con la pala Neanche Le abbiamo fatto La tomba È scomparso Davvero? È scomparso Perfetto 40 secondi per sto dannato libro Che davvero oggi E vi prego Fatemi almeno piantare Guarda Dopo tutte le disgrazie di oggi Fate piantare per i mici Fatemi piantare dei semi Altrimenti pianta gli sviluppatori Adesso rimango qua Ad aspettare 30 secondi Mentre lo fisso E io rimango a fissare a te Che fissi il libro Che viene craftato Ah Guarda Vai su skill points Ok No no Non ci sta capendo nulla Skill points Agricolt Ah eccolo Eccolo 5 punti Per fare il farming Ma pensi che mi serviranno 5 punti? Sì Sei sicura? Adesso vado via Scusa un attimo E spacco qualcosa In questo momento Se vogliamo coltivare Dobbiamo rimanere dentro il gioco E mangiare Mangiare tacchini E tu mangiando Impari a fare le cose Esatto È bellissima È fantastica È il gioco per bere i mici Manca giusto come richieste dolci Magari nella realtà Capito Tutto quello che mangio Fosse trasformato in conoscenza Sei un genio adesso Mangi un pollo E impari La storia del 1800 Oppure mangi un pollo E impari a fare una scrivania Esatto Così capito Sarebbe tutto più bello Inizio a piantare piante in balcone Adesso mi faccio la coltivazione Dai comunque ci fermiamo così per questo video Non mi aspettavo un craft così complesso Però sto iniziando a capirlo E lo sto anche apprezzando No io sono contenta Perché finalmente è un bel gioco difficile Che sia molto realistico Mi piace quando nei survival Proprio curano il minimo dettaglio Anche se è complicato Però lo apprezzo Lo apprezzo davvero tanto Mi stai fissando dalla finestra Sei super inquietante Beh ragazzi E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarvi Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao